Bene, riprendiamo insieme la visione di alcune immagini relative a Gabriele D'Annunzio. Stavamo parlando di D'Annunzio e della pubblicità. D'Annunzio, grande creatore di slogan in generale, ha utilizzato questo suo talento anche proprio per partecipare alla pubblicità. Ha creato slogan per l'amaro Montenegro, l'amaretto di Saron, per l'azienda Saiva, di Biscotti. Fu anche, come abbiamo visto, un grande pubblicitario di se stesso e delle sue opere. È stato capace di creare se stesso come personaggio, creare la propria vita come si fa un'opera d'arte. E quindi attirare l'attenzione anche proprio su di sé come personaggio, oltre che sulle sue opere. E la cosa è comunque un tutt'uno, non si può separare. Con il suo comportamento, la sua condotta spesso eccessiva e molto dispendiosa, era convinto che lo scandalo, il clamore, l'attirare l'attenzione fossero necessari e utili per coinvolgere il pubblico e per creare e per raggiungere, diciamo, la fama. Il successo nel mondo della pubblicità è dovuto all'oratore di D'Annunzio, alla sua capacità di parlare, di rivolgersi alle masse. Questa sua capacità lui l'ha utilizzata sempre, l'ha utilizzata da giovane, come cronista mondano, per iscritto, l'ha utilizzata in guerra. Qualcuno ha detto se D'Annunzio potesse parlare alle masse, ai soldati, alle folle, prima della battaglia, metà della battaglia sarebbe già vinta. L'ha utilizzata questa sua capacità per raggiungere lui stesso la fama, per diventare famoso, diventare un grande personaggio, per coinvolgere il pubblico a livello anche proprio commerciale, perché D'Annunzio, e questa è una contraddizione, è vero che vuole essere lui il poeta Vate, il superuomo, quindi una guida per le masse, ma quindi si sente assolutamente superiore, ma nel contempo, dal punto di vista proprio anche economico, è uno dei primi autori moderni nel vero senso della parola, che quindi vive del suo lavoro, di quello che riesce a produrre, a vendere, e quindi alle masse lui deve anche procurarsi in qualche modo pur di piacere, cioè deve attirarle, per quanto sia capace di intrattenerle, di riunirle, di interessarle, anche un po' manipolarle, comunque deve coltivare la ricerca del consenso. Quindi era famoso per essere abile a trascinare il pubblico nelle piazze, oltre che per il suo carattere di esteta raffinato. L'abbiamo già detto, considerava l'arte come valore assoluto, quindi superiore anche proprio alla vita stessa, e agiva secondo i principi del bello. Questa è una poetica, un modo di vivere, che è ripreso, per esempio, nel conte Andrea Sperelli, l'Ugenta, protagonista del piacere. Ma ora soffermiamoci su alcuni di questi manifesti, immagini pubblicitarie, e qua d'annunzio che pubblicizza se stesso, Cabiria, una sua opera teatrale. Questo è un manifesto per la stagione, novità della stagione primavera estate della Rinascente, saprei dirvi di che anno, molto antico. Questo è un manifesto della Saiva, vi dicevo aveva lavorato proprio alle pubblicità per questa azienda, come per il liquore Aurum, la grande marca liquore italiana. Di nuovo un'altra pubblicità per la Rinascente, primavera estate 1922, qua è una pubblicità della pasta de Cecco, e questa è molto interessante, questa immagine, cerco di ingrandirla, in cui c'è d'annunzio, seduto di fronte a un'automobile, e la scritta l'automobile è femmina. Se ricordate, quando abbiamo letto il manifesto del futurismo, e abbiamo trovato il sostantivo l'automobile, era maschile, perché, secondo anche proprio l'idea dei futuristi, l'automobile è aggressiva, rappresenta la velocità, la modernità, quindi è collegata ad attributi maschili, positivi per i futuristi, e non a negativi, come quelli femminili, sempre dal loro punto di vista. Quindi l'automobile inizialmente era un termine utilizzato al maschile, e con d'annunzio cambia genere, diventa appunto l'automobile, l'automobile è femmina. Quindi un oggetto, forse per molti aspetti ancora adesso è così, desiderabile, avere una bella automobile, rappresenta anche per molti, immagino sia ancora così, forse purtroppo, una sorta di status symbol, o un piacere, proprio un piacere dei sensi, come essere accompagnati a una bella donna, in pubblico, elegante, ai ricevimenti. Bene, abbiamo visto insieme diverse immagini di Gabriele D'Annunzio, e spero che questo possa aiutarvi a esservi fatti un'idea, possa avervi aiutato a farvi un'idea del personaggio, dei suoi gusti, dei suoi valori, della sua estetica. Tra l'altro, alcune delle parole chiave le ritrovate alla fine dei cenni biografici sulle dispense, a pagina 75. Quindi ricordate questi termini, estetismo, la ricerca del bello, superomismo, la ricerca dell'essere superiore, soprattutto alle masse, le vili, masse, borghese in questo caso, ma peggio ancora proletarie, che si affacciavano sulla scena della storia, proprio ai inizi del Novecento, con l'avvento della società di massa. panismo, quindi la ricerca di una compenetrazione e armonia tra l'uomo e la natura, una ricerca di essenzialità, più che altro di originalità, di ritorno quasi proprio alla natura stessa. E questo lo si vede soprattutto in poesia, grande esempio, la pioggia nel pineto. E qua vi ho, in questo schema, vi ho definito in modo piuttosto sintetico, spero abbastanza chiaro, alcuni aspetti proprio tipici dell'arte, della poetica dannonziana, che si possono chiaramente rilevare nelle sue opere. Come abbiamo visto anche dalle immagini, in dannonzio prevale soprattutto l'estetismo, cioè dannonzio concepisce la vita essenzialmente come culto del bello, culto dell'arte, alla ricerca di un godimento sensuale. Sensuale vuol dire godere a pieno della vita tramite tutti i sensi, quindi non solo sessuale, semmai ma proprio sensuale. E questo lo ritroviamo, ad esempio, nei primi capitoli del piacere, per fare un esempio, nelle descrizioni minuziose dei profumi e dei fiori, dei colori, delle forme, degli oggetti che arredano la casa di Sperelli. E nei rumori, piccolo scopiettio del fuoco nel camino, in ogni proprio minuzia dettagliata su cui l'autore si sofferma, in cui l'autore si sofferma e che descrive. Quindi godimento sensuale di ogni aspetto, anche quotidiano, cercando però sempre di elevarsi sopra la massa degli uomini comuni. Quindi sapere riconoscere, cercare e accogliere il bello significa anche essere automaticamente superiori alle masse che non sanno, non riescono a riconoscere il bello in tutto quello in cui il bello si trova. Altro aspetto estremamente collegato con l'estetismo è il superomismo d'Annunziano. Ora, D'Annunzio si rifà qua all'idea di superuomo del filosofo tedesco Nietzsche. Ora, qua apro una breve parentesi perché va detto che D'Annunzio è un poeta onnivoro nel senso molto aperto alla lettura di ogni opera soprattutto contemporanea a lui della letteratura europea e anche mondiale se vogliamo e ha assimilato un po' proprio tutte le novità della letteratura europea proprio anche dal punto di vista artistico prendendo spunto dai simbolisti francesi Baudelaire e Berlani in particolare dai narratori russi questi ispireranno la fase della bontà in alcuni dei suoi romanzi ha preso spunto dal verismo italiano e dal superomismo di Nietzsche anche. Sono tutti elementi che noi ritroviamo come elementi costitutivi della sua grande produzione sia poetica sia proprio narrativa letteraria. Pensate che per questo D'Annunzio è stato addirittura accusato di plagio perché in tutte le sue opere è sempre evidente il riferimento a opere letterarie e anche a idee altrui però altresì in tutte le sue opere c'è pur sempre anche qualcosa di suo prettamente suo e assolutamente originale quindi di nuovo l'Annunzio per questo sperimenta anche molti modelli e generi letterari diversi anche se due poi sono gli assi principali attorno a cui si muove la sua opera e uno è dal punto di vista formale la ricerca di uno stile sublime quindi cercare anche un lessico a volte letterario elevato molto ricercato uno stile particolare quindi e dal punto di vista dei contenuti invece l'adesione la rappresentazione di una realtà dominata dalla sensualità quindi dalla ricerca del piacere proprio attraverso i sensi il superomismo in D'Annunzio si manifesta nel voler essere l'individuo di eccezione l'uomo eccezionale che riesce a dispiegare appieno le sue energie vitali affermando sugli altri la propria volontà di potenza senza sottomettersi alla morale comune quindi vivendo al di sopra delle masse al di sopra delle regole per tutti al di sopra al di là del bene e del male secondo parafrasando le parole di Nietzsche però senza distruggere i valori codificati dalla società borghese come Nietzsche indicava D'Annunzio invece aderisce a questi valori perché è attraverso questi valori che come individuo si erge al di sopra di essi e delle masse anzi questi valori D'Annunzio come poeta vate li vuole manipolare per apparire proprio come superiore come guida quindi delle folle e delle masse a tal proposito soffermiamoci un attimo su Nietzsche vi avevo presentato un passo di così parlò Zaratustra una delle opere più famose del filosofo tedesco questo passo proprio riguarda appunto l'idea di superuomo e abbiamo visto che come molti altri che hanno frainteso un po' l'idea Nietzscheana di oltreuomo superuomo quindi una specie di uomo che va oltre l'uomo presente aderisce maggiormente alle forze naturali quindi proprio dal punto di vista evolutivo va oltre e con la sua forza creativa il suo slancio vitale si avvicina all'essenza della realtà irrazionale anche dolorosa e D'Annunzio interpreta proprio l'idea di superuomo adattandola a se stesso cioè il superuomo è lui il poeta avate e chiunque altro come lui appunto è capace di essere una guida per il paese una guida per le masse per le folle un personaggio che seduce e vive una vita eccelsa e rifiuta il conformismo borghese e i suoi principi egualitari e sogna l'avvento di una nuova elite aristocratica che si eleve appunto sopra le masse attraverso il culto del bello in questo vedete che superuomo ed esteta coincidono poi perché attraverso il culto del bello che il superuomo esalta se stesso e si pone come guida degli altri e questo aspetto lo vediamo proprio anche nel protagonista del piacere Andrea Sperelli tornando ad altri aspetti della poetica d'Annunziana importante è il panismo soprattutto in poesia nelle liriche di Alcione che in parte abbiamo letto il panismo in D'Annunzio si presenta come spirito di comunione di compenetrazione dell'uomo con la natura è ispirato anche da un senso panteistico panteistico viene da panta greco il tutto cioè come se la divinità fosse per tutte le cose come se la natura fosse pervasa da uno spirito divino quindi attribuisce alla natura i caratteri di una divinità non però religiosa in cui immergersi alla ricerca del piacere vi è poi anche presente in alcuni aspetti soprattutto nei romanzi un'idea nichilista nichilismo è l'idea per cui non c'è scopo non c'è meta non v'è fine nell'universo e non v'è Dio parafrasando le parole di D'Annunzio quindi niente ha senso per il nichilista quindi nega l'idea di un panteismo religioso presente nel panismo e anche il vitalismo del superuomo e anche la non c'è l'idea di un po' Grazie a tutti